Prosegue con successo a Crotone la quarta edizione della stagione concertistica all'Era della Magna Grecia, organizzata dalla società Beethoven-Akam. Nell'ambito della rassegna, nella Chiesa dell'Immacolata, è stato proposto il concerto dell'orchestra Orfeo Stillo, diretta dal maestro Fernando Romano, insieme al maestro Rodolfo Rubino al pianoforte. Protagonista le composizioni di Mozart, Rubino ha studiato pianoforte, presso il Conservatorio di Napoli e poi l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha avuto grandi maestri e ha suonato in tutte le maggiori città italiane, ma anche in Austria, Francia, Svizzera, Portogallo, Russia, Canada e anche in Turchia. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi di caratura nazionale e internazionale. Da vent'anni forma un duo con la pianista Tatiana Malguina. Rubino ha insegnato pianoforte e musica da camera nei conservatori. Diciamo che questi due sono due aspetti della personalità di Mozart, l'aspetto giocoso in Uncline Music e poi invece operistico drammatico nel concerto del pianoforte orchestra. L'orchestra da camera Orfeo Stillo, gruppo strumentale costituito dalla società Beethoven alla scopo di dotare la provincia di Crotone, è formata da 14 archi, cembalo, fiati aggiunti e si dedica alla diffusione della musica da camera di autori calabresi, sconosciuti o a volte dimenticati. Giovani e valenti strumentisti vengono inseriti nell'organico che è formato prevalentemente da professionisti, docenti dei conservatori dopo una rigorosa selezione. Grazie.